Professor Stupia, si parla tanto di vaccini, finalmente la campagna vaccinale sta decollando, ma molti hanno ancora un po' di timore su questi vaccini, sono sicuri? Sì, assolutamente sì, c'è stato pochi giorni fa un report molto dettagliato dell'AIFA che ha fatto vedere che gli effetti secondari di questi vaccini sono minimi, che il rischio è molto basso, addirittura il rischio di reazione anafilattica è inferiore ai vaccini comuni, quelli per l'influenza eccetera, per cui a fronte di una situazione in cui continuano a morire più di 300 persone al giorno per il Covid, francamente parlare di effetti collaterali gravi in un caso su un milione di vaccinati fa pendere il peso della bilancia decisamente a favore della vaccinazione. Quindi i cittadini abruzzesi possono stare tranquilli, possono essere tranquilli quando vanno a vaccinarsi? Assolutamente sì, allora la vaccinazione al rischio zero non esiste, ma in questo caso in particolare sono stati fugati tutti i dubbi legati al fatto che erano stati immessi sul mercato molto velocemente. Noi adesso abbiamo dei dati straordinari su milioni di casi e ripeto, gli eventi avversi gravi sono molto pochi. Poi se come evento avverso dobbiamo mettere il dolore alla spalla, allora è un altro paio di maniche, ma eventi avversi gravi sono veramente pochi. Dottor Stupia, la sicurezza va bene e invece per quanto riguarda la copertura di questi vaccini contro il Covid, quali sono le percentuali perché anche qui si è generata nei giorni scorsi un po' di confusione? No, noi stiamo studiando molto, allora si comportano in maniera diversa, per esempio Pfizer già dopo la prima dose nel maggior parte dei casi dà presenza di anticorpi, AstraZeneca apparentemente dà meno presenza di anticorpi, poi però andando a vedere le cellule della memoria che sono quelle più importanti, cioè quelle che si ricorderanno del contatto con il vaccino e produrranno anticorpi contro il virus, abbiamo visto che tutti i vaccinati che noi abbiamo studiato la memoria immunologica ce l'hanno. Ora il problema sarà vedere quanto tempo dura e quindi bisogna seguire tutto quanto il percorso. Bisognerà vaccinarsi di nuovo il prossimo anno? Quello assolutamente sì, è un po' come per l'influenza, anche perché non dobbiamo dimenticare che le varianti continuano a esserci, adesso c'è molta preoccupazione per l'indiana, qualora dovesse uscire fuori che alcune di queste varianti scappano alla protezione dei vaccini, dovremmo fare nuovi tipi di vaccini, dovremmo abituare a vaccinarci ogni anno probabilmente. Professore, probabilmente per chiudere dovremmo abituarci a portare ancora per parecchio tempo le mascherine? Sì, 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 deve essere chiaro che anche i vaccinati non debbono sentirsi totalmente protetti, non c'è, diciamo che si abbatte quasi totalmente il rischio di malattia grave, ma la possibilità di una lieve infezione che poi permetta di infettare assolutamente una persona non vaccinata c'è, quindi ancora un po' di pazienza, mascherine, distanziamento sociale, lavaggio delle mani, tanto incominciamo ad essere abituati dopo un anno, continuiamo con queste buone norme.